Diciamocelo chiaramente, non ce lo aspettavamo. Come timing siamo forse non al top, ma sicuramente un ottimo modo per far parlare di sé. Stiamo parlando infatti dell'annuncio dato qualche giorno fa da Intel. Vediamo insieme cosa hanno da dirci. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Bentornati, oggi si parla di nuovo di processori. A due giorni in Ryzen 5000 parliamo un po' pensando un pochettino di cosa? Di Intel. Ora ragazzi tutto quello che vedrete nel video di oggi è frutto ovviamente di una dichiarazione ufficiale di Intel perché sapete su questo canale difficilmente parliamo di rumor. Più che altro per tutte le notizie ecco un pochettino più così. Le facciamo in live. Come in live vedremo se ci verrà data la possibilità appunto di seguire l'Intel Experience Day. Non posso promettervi niente comunque venerdì alle 10.30 altrimenti tutti i giorni in live alle 17.00. Mi raccomando iscrivetevi al canale secondo l'avete fatto, attivate le notte notifiche anche perché non so se vedete il set. C'è qualcosa di molto particolare che vedrete nei prossimi giorni. Detto questo diamoci da fare. Durante un periodo di maggiore attività della concorrenza ovvero di AMD, Intel ha deciso di rivelare alcuni dei dettagli molto grossi che riguardano i suoi processori consumer di nuova generazione. Mi piace come ho detto consumer. Noto anche come Rocket Lake oppure Intel Core di undicesima generazione per quelli che hanno meno fantasia. La nuova famiglia di processori è prevista per il mercato nel primo trimestre del 2021 e si prevede che condividerà una compatibilità con Socket 1200 e le stesse schede matri con gli attuali processori come Lake di decima generazione, fornendo quindi un'opzione di aggiornamento finalmente anche per quelli che hanno per esempio un Core i9-10900K, non capisco perché dovrebbe fare un upgrade però se vuoi puoi farlo. Il 10900K vi ricordo che è il processore desktop di Intel più performante ad oggi sul mercato. Si prevede comunque che saranno disponibili anche nuove schede matri della serie 500, quindi Z590, B560 eccetera eccetera. Questo nuovo pezzo di silicio che chiamiamo Rocket Lake S o Rocket Lake insomma verrà conosciuto e viene denominato come Cypress Cove. Tra l'altro Intel nel comunicato che viene dato, insomma c'è stato dato in formato PDF, si è un pochettino confusa poiché il comunicato stampa parla di questa architettura dei Corts anche se poi in realtà viene affermato che la microarchitettura principale Ice Lake Sunny Cove diciamo che è un pochettino di confusione perché come posso dirvi, mentre Sunny Cove è a 10 nanometri questa qui è a 14, mo vale a capire che c'è sta dentro ma probabilmente, sicuramente si sono confusi ed è a 14 nanometri. Infatti ci tengo ad essere chiaro su questo argomento, Sunny Cove e Cypress Cove sono praticamente identici tuttavia e vi ricordo ancora una volta Sunny Cove è a 10 nanometri e Cypress Cove è la variante a 14 nanometri. Accoppiata dalla CPU ci sarà finalmente la nuova architettura grafica Tiger Lake nota come XELP anche questa qui praticamente è un pack port da 10 nanometri di quella che abbiamo visto sui Tiger Lake a 14 nanometri insomma la combinazione a 14 nanometri tra questi Core Ice Lake e questa nuova grafica IXELP a 14 nanometri viene chiamata come Rocket Lake e farà parte quindi della famiglia Comet Lake o mio Dio, di tutti sti laghi di undicesima generazione. Mo speriamo di aver messo a posto i nomi, se chiama Rocket Lake c'è sta Cypress Cove ed è a 14 nanometri. ricordatevi questo, ma per il resto vediamo altra confusione che ha fatto Intel. Con i nuovi processori Intel punta ad avere un aumento puro dell'IPC nell'intervallo delle due cifre quindi circa il 10% che è più o meno simile all'incremento che abbiamo visto da Comet Lake ai nuovi processori immobili Intel Ice Lake. Se dico un altro Lake vi giuro che esplodo stavolta. Anche se, se vogliamo essere sinceri, a causa della differenza di processo produttivo perché questa volta Cypress Cove è a 14 nanometri è probabile che la variazione esatta di IPC sia inferiore a quella insomma che abbiamo visto nella parte antecedente però diciamo il 10% sarebbe comunque un aumento di tutto rispetto soprattutto visto che Intel dovrebbe essere anche in grado di mantenere la frequenza le frequenze così alte che abbiamo visto con la generazione Comet Lake e se ogni volta facciamo un plauso ad AMD per aver migliorato così l'IPC dei suoi prodotti l'IPC dei suoi prodotti scusate, sullo stesso processo produttivo in caso Intel dovesse mantenere le promesse andrebbe fatto sicuramente un plauso anche a loro senza fanatismi di sorte insomma. Uno dei vantaggi del passaggio decor a Sannikov, Cypress Cove eccetera eccetera con questo porting di nanometri in sé capito niente sarà finalmente l'inclusione di accelerazione vettoriale AVX 512 che troviamo in Cypress Cove che viene da Sannikov e che quindi è sempre quello però 14... oh mio Dio vi giuro io non so se ultimamente hanno fatto un corso per impiccarci le cervella però più o meno ce ci stiamo eh comunque cosa fa questa nuova accelerazione vettoriale AVX 512? consente a Intel di abilitare la sua libreria di tecnologia di Deep Learning Boost per l'accelerazione AI e l'accelerazione ML incluso il supporto al VNNI che è il Vector Neural Network Instruction e insomma porta finalmente tutta sta roba sulla piattaforma desktop dopo che l'abbiamo visto sulla piattaforma mobile che poi molte di queste cose le abbiamo ritrovate anche all'interno del project Atena e non Atena non parliamo quindi soltanto di un incremento in prestazioni ma anche finalmente che posso trovare un nuovo inserimento di feature che possono portare nuova linfa vitale a questi processori anche perché essenzialmente parliamoci chiaro da quello che abbiamo visto dai Ryzen non è che poi Intel sia rimasta così tanto indietro tuttavia però per trovare la giusta combinazione per il numero di core all'interno del processore, grafica, AVX12 eccetera eccetera e per adattarsi insomma come posso dire alle dimensioni del DAI alle prestazioni, al costo e quindi insomma per trovare la quadra e tutta sta roba nuova che ci hanno voluto ficcare dentro a sti 14 nanometri il processore più succolente e potente ce ne avrà soltanto 8 di core ce li faremo abbastare anche se questa cosa qui parlandoci chiaro potrebbe portare a risultati non eccezionali del multitrading sia rispetto ad AMD ma anche a questo punto alla serie precedente all'interno dello stesso comunicato stampa Intel ha inoltre dichiarato che l'attuale DAI testato appunto per quanto riguarda CypressCov può vandare circa 125 watt di TDP con un massimo in turbobus di 250 watt che è più o meno quello che vediamo oggi con l'innovo 10900K ci puoi provare quanto vuoi ma non puoi sfuggire alla fisica delle caratteristiche di prestazioni per watt del processo produttivo a 14 nanometri il che indica che Intel potrebbe trovare un po' più facile raggiungere quelle frequenze molto più alte avendo di conseguenza meno corda a gestire insomma questo qui dovrebbe servire a recuperare ancora di più i gap portandosi un pochettino dietro tutti i dubbi su consumi e temperature che ci aveva lasciato la precedente generazione Intel sta anche promuovendo a quanto pare i nuovi strumenti di overclock per quanto riguarda Rocket Lake tuttavia non è che sono entrati molto nei particolari quindi ci sono ma non sappiamo ancora niente un'altra caratteristica che Intel ha rivelato con Rocket Lake è finalmente il passaggio al PCIe 4.0 sul processore che dovrebbe avere circa 20 linee disponibili 70 linee dovrebbero essere suddivise in circa 16 per quanto riguarda la parte grafica e 4 per quanto riguarda la parte dell'archiviazione questa cosa è già presente sulla maggior parte le schede matri e infatti abbiamo visto molte schede matri posso dire di Intel 0490 che hanno già parlato hanno già parlato appunto di questo supporto per PCIe 4.0 su futuri processori Intel ecco i futuri processori Intel di cui parlavamo Intel inoltre afferma anche di aver migliorato il controller di memoria che ora le supporta fino a DDR4-3200 quindi non avremo DDR5 speriamo per l'intera gamma dei processori tuttavia i numeri delle prestazioni che ci sono stati forniti adesso in questo momento sono fatti con RAM a 2933 MHz quindi manco 3000 altri dettagli non ne abbiamo dal punto di vista grafico ecco il passaggio a sonoro architettura grafica XE sarà un grande miglioramento ecco Intel ci suggerisce addirittura un miglioramento del 50% rispetto all'attuale scheda grafica integrata di Gomet Lake che comunque non è certamente un'architettura di primo pelo anzi ecco diciamo che si porta diversi anni ormai sulle spalle soltanto con qualche piccolo rebrand del nome ma fondamentalmente sono so tanti anni che c'è sta sta roba vale la pena notare però una cosa molto importante che Intel la menziona come UHD Graphics Featuring XE Graphic Architecture questo qui praticamente dovrebbe indicare che è tipo una versione depotenziata della XE che abbiamo visto su Tiger e che tanto sembrava andare bene insomma è come Tiger come quella però come se non ci avessi credito abbastanza sicuramente anche questo qui è figlio ancora una volta delle limitazioni del processo produttivo perché anche la parte grafica di Intel si svolge sempre a 14 nanometri infatti mi aspetto di vedere su questa parte grafica soltanto 32EU diciamo più che altro questo qui dovrebbe servire ad equilibrare l'area del DAI soprattutto per quanto riguarda potenza e prestazioni potenza inteso come consumi ci viene anche detto che ci saranno alcune versioni di Rocket Lake senza la grafica abilitata questa grafica qua simile ai processori F che vediamo oggi sul mercato ma visto che la nuova architettura grafica di cui stiamo parlando che verrà tolta questi processori mi aspetto di vedere molto più di 10 euro in meno rispetto invece a come accade oggi con i processori F che fondamentalmente tra un processore non F e quello F passano 10-15 euro essendo un architettura nuova ma aspetto non so un bel po' di soldi in meno Intel inoltre sta promuovendo nuovi codificatori multimediali e soprattutto supporto per risoluzioni del display maggiore dovremo arrivare quindi ad un massimo di 4K 60p fino a 12 bit di colore per 444-HEVC e VP9 oppure fino a 4K 60p con 10 bit di colore 420-AV1 questo qui insomma mostra che il supporto AV1 è arrivato anche sui processori mainstream abbiamo quindi un supporto della risoluzione e il display aumentato con un massimo di 3 display 4K 60p o 2 display 5K 60p madonna mia con integrata sarà un parto che supportano DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b una parte molto interessante di tutta questa presentazione è forse quella più nascosta perché le date delle depositive mostrate da Intel parlano del 6 agosto il che effettivamente parliamo di un prodotto cioè di un qualche tempo fa e quindi praticamente questa roba è stata testata diverso tempo fa e che probabilmente questa roba era pronta già prima del lancio di Tiger Lake il che secondo me tende ancora una volta di più a sconfessare la già povera decima generazione Intel che sebbene si stia allineando ultimamente con i prezzi devo dire abbastanza interessanti appare a tutti gli effetti una soluzione nata per essere abbandonata troppo presto mancano ovviamente ancora diversi mesi prima di poter mettere in mano su questo processore o poter avere ecco qualcosa di più tangibile su cui ci andremo a confrontare potrebbe rivelarsi effettivamente una mossa a doppio taglio visto che tra due giorni c'è l'arrivo in commercio dei nuovi Ryzen 5000 che se dovessero dimostrarsi all'altezza delle aspettative sarebbe ecco molto problematico detto questo ragazzi questa qui diciamo era la pre-presentazione non so se esiste il suo termine se esiste fatemelo sapere se non esiste datemelo per buono dei nuovi processori Intel Rocket Lake Cypress Covo 14 nanometri eccetera eccetera tutti i nomi tutte le cose tutti i luoghi e tutti i laghi frase di Valerio Scano più adatta mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate ma soprattutto domanda importante senza sapere ancora niente Intel con questi nuovi processori riuscirà a riprendersi lo scettro del potere e soprattutto se dovesse riuscire a prendersi lo scettro del potere di nuovo con i 14 nanometri non sarebbe un bel problema per AMD lascio a voi questo interrogativo mi raccomando ci vediamo alle 17 live e niente non mancate e se no altrimenti qui al prossimo video ciao ciao ciao